Una prova gagliarda e un sonoro poker rifilato al malcapitato Fondi non permettono al Biceglie di coronare il sogno playoff. I nerazzurri vincono con merito sul terreno del purificato, una gara sempre vibrante e ricca di emozioni. Inizio di gara al cardiopalma, passano appena tre giri di lancette e il Biceglie trova la via del gol. Sugli sviluppi del primo corner, Petta svetta più in alto di tutti e insacca Elezai. La squadra di Mancini entra in campo con la giusta convinzione e tre minuti più tardi troverà doppio. Cross dalla destra di D'Ancora e deviazione decisiva del difensore di casa Mangraviti che beffa l'estremo difensore laziale. 2-0 Biceglie ma il Fondi trova la forza per rientrare in partita. Al nono cross dalla sinistra e girata al volo perfetta di Mastropietro che accorcia le distanze. Al 14esimo il Fondi trova anche il pareggio. Azione solitaria di Ciotola sulla sinistra e cross al centro per Addessi che di testa batte Crispino. Cambia l'inerzia della gara con il Fondi che in un paio di occasioni va anche vicinissimo al vantaggio. Al 39esimo è però il croato Jovanovic da posizione invitante a fallire la più ghiotta degli occasioni. 2-2 all'intervallo. Nella ripresa il Biceglie entra deciso a far sua l'intera posta in palio. Al 53esimo Aina impegna severamente Lezai. 3 minuti più tardi è nuovo vantaggio Biceglie. Invenzione di Azzi per Giron che tutto solo insacca l'icolpevole estremo difensore laziale. Il Fondi crolla sotto i colpi dei nerazzurri che al 66esimo trovano la rete del 4-2 con Dentello che sfrutta un'azione confusa in area laziale. Nel finale il Fondi prova a riaprire nuovamente la contesa ma Crispino chiude la Saracinesca. Finisce 4-2 per il Biceglie che manca il definitivo aggancio playoff ma può essere comunque soddisfatto della prima stagione dopo il ritorno tra i professionisti.